Sono una filante tutta Eeeh Daniele D'Acadio Daniele amore mio Ti prego Ma stai scherzando il mio ascoltatore Non è vero che il mio ascoltatore è più finito ovviamente Diciamo così a tutti Non vale Sto ascoltando Radio 105 Adesso che mi guardo in tv L'effetto in tv è peggiore Di quello che la realtà poi ti Consiglia Tuoi maffi oggi Quelli sempre Chiaramente si scherza State ascoltando Radio 105 Oppure ci state guardando sul canale 66 Del digitale terrestre Brian con una bellissima maglietta verde Nessuno da ridire sulla tua maglietta oggi Quindi tutto bene C'è un casino sta base qua Guardi la base Dai bellissimo Stavamo facendo qualcosa Stavamo facendo tutto bene Con i nostri messaggi 3,4,2,41,15,105 Perché tutto bene è l'inizio Mi raccomando La prima ora è totalmente cosa Tipo? Tipo tutto bene a 105 In questa giornata di sole Forse a Milano Valentina da Milano E saluto anche Angelo da Milano Che dice Buongiorno ragazzi Più che tutto bene a 105 Tutti rotti a 105 Mamma mia veramente Però si è offerto anche di passarci a salutare oggi Quindi raga Dato che a Milano è una bella giornata Veniteci a salutare Ci abbracciamo tutti insieme Così ci attacchiamo tutte le mani Ecco Diciamo così Abbracciate lei E mentre mi abbracciate lei Io vi saluto da lontano Così Dai Così almeno evitiamo di passarci Però vabbè Anche